scusami ma 311 rap dov'è cazzo li hai scusa? eeeh... sull'oroshio e la ramoscia 50 da una parte 50 dall'altra che schifo è magico marco adesso io come entrerò il guardo di sfida no non dare revenge all'esposito marco instant regret di giocare con noi in squadra madonna ti mangio la faccia e ne abbiamo 3 noi sopra bello mark bellissimo che non finti ho sentrato hai visto? si si poi quando rimane poca stamina ce l'ho finto bene mi è arrivato mi è arrivato quel mezzai oh ma tu vedi che pc sta odio ci hanno gli armi salvare vieni qua ti pianto come un chiodo no vai aglior povera angelo vai aglior vai aglior ma perché è tipo stato imploso malamente qua wow wow è presente? no sono questo è un duradur vado adesso arriva il pc più forte del mondo che è il guardiano abbiamo schiatato non poteva fare niente e non è neanche roba assicurata quindi col cazzo che entrava revenge ha acquittato il coso? si dopo che l'hai spaccato il bot è decisamente più forte guarda il mezzai mezzai veramente tu devi tornare a sarei sempre più convinto che dovresti tornare a tirare sulle piramidi ma perché devono continuare? è la terza volta che in sta partita che mi buttano giù guarda io adesso ti giuro sto per tirare uno di quegli urli fotonici che faccio da gnocchi in questo gioco non ti ho detto io tu non devi giocare a sto gioco faccio una gnocchi vabbè che uccida tutti tutti minion voi nemici tutti tutti io veramente sto per tirare cacciare veramente un urlo fotonico eh se è veramente io ve lo dico vi voglio bene ma quel raider ha fatto più male a mai che a loro cioè per cui no ma di***a tranquillo non ti preoccupare non devi interiare tutto quello che vedi ma io vedo rosso mi viene da perio ecco ma no ma non fare non fare la sciglia mettici la guardia boia mi hanno gancato da dio me dai me dai ti prende ti prende la manina e ti dice dai vieni con me vieni con me figlio mio che ti porto che ti porti in giro Angela sei una brutta troia ma che cazzo dici tua mamma va bene ok mi piace tu sei la peggio bestia comunque 4-4 ne uccido uno faccio per farmi l'altro no c'è il kioshine che mi dà sanguina mentre mi scopa così comunque 4 volte adesso con questa 4 volte mi hanno buttato beh io fra poco anche lo standardo forse ma vai insisti mamma mia godo allioooor te terrore perché vado a tirare ti begar un attimo al merda qua via un attimo busta maledetto che ho scendere mie palle no no io adesso ho preso degli alette li ho presi da 5 mila d'acciaio che buono vedo che cazzo vuoi che il tuo zaro fa violenza psicologica quanto è brutto quel porno baffo quel porno bravo non c'è i soldi per cambiare lo stile vaffanculo come non c'è i soldi non c'è i soldi guarda pesante nezzaro la ramuscia è veramente boh il mio ho il finito no che cos'è che liscio però silenzio devi portare il rispetto posto io ce l'ho provato fai nel dubbio porco dio un r1 guarda che troia devi morire grazie non ti posso buttala giù quella puttana merda buttala giù oh mio dio questo inizio a spammarmi di light va bene va bene dovete morire basta madonna ma sono schianta schianta bene no così grillò che mi nemmi in culo in culo bene scampato io corro finché non finisce scampare no cosa dave f***o di merda davidas io ti segnalo tante di quelle volte che domani mattina tua madre si trova sai dove sei dove sul tavolo no mi dissocio è un gioco l'importante divertirsi cosa cazzo cosa cazzo mi è arrivato ma mi è arrivato di tutto e di più vabbè 5-9 pulito come un vero pro guarda ma se qua tirano le bombe ma cosa siamo capodanno napoli wow guarda guarda ma niente no non puoi fare un cazzo con quell'altro che fa ah r1 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 caggia r1 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 no no è lui il problema è lui e chi l'ha partorito è il problema si 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 erano gente normale no è del perno è anche un filino scarsi guarda l'hylander che deve morire ammazzato da qui guarda ma che cazzo guarda con scusami scusami con un grifone con un grifone e un hylander bg che probabilmente giocano perché a breve fra qualche mese tirano le cuoie cosa cazzo dovrei farci sinceramente vai grillò guardalo che fa solo questo c'è l'hylander ragazzi l'hylander sta facendo 7-1 e sta veramente boh non lo so boh non lo so boh non lo so guarda la m***a baldracca no io no basta vabbè basta basta io e l'hylander un grifone insieme non li voglio più vedere non li voglio più vedere ancora no non ci credo basta basta io l'hylander non lo voglio più vedere non lo voglio più vedere non lo voglio più vedere io non voglio più vedere un hylander in tutta la mia vita basta si fottono si fottono bot è uno schifo già che usi quello schifo la ora veramente basta 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 è uno schifo è uno schifo ma che cazzo è sta roba no ragazzi no io io mi rifiuto sta roba io mi rifiuto io mi rifiuto dodo go la pasticca per la peste tesoro un giorno mi metto il coso che mi misura la pressione al braccio mentre gioco for honor come massimo avrò 500 di come il ping degli arabi come il ping degli arabi esattamente vecchio a 502 esplode il cuore fatto sta cioè quelle r1 di troppo potrebbe uccidermi pulire rigolo succhia succhia ah pensavi e invece no pensavo morisse è pesante quella roba oddio guarda